È stato finalmente firmato il protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila e la Asla per la realizzazione del progetto Durante e Dopo di Noi, presentato in una conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Biondi con l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti e i rappresentanti delle varie associazioni cittadine. Per la prima volta il piano sociale vede una vera integrazione sociosanitaria, ha detto Bignotti. Tra le prime azioni che abbiamo deciso di mettere in campo c'è il progetto sul Durante e Dopo di Noi per le disabilità gravi. Il protocollo è snello ma aperativo, ha detto l'assessore. Prevede una fase di valutazione e acquisizione di informazioni sociosanitarie per creare un database condiviso. Si lavorerà alla nascita di una consulta comunale per la disabilità. Verrà adottata per ognuno una scheda budget di salute. Sarà finalmente fatto un censimento sulle persone affette da disabilità grave. È un modello che, se applicato a diversi ambiti dell'amministrazione, può portare risultati positivi, ha detto il sindaco Biondi. Il protocollo riguarda il dopo di noi ma anche il durante di noi perché ci sono famiglie che hanno difficoltà economiche magari ad aiutare questi ragazzi quindi noi vogliamo intervenire sia durante la fase di vita che nell'eventualità successivamente per il dopo di noi. È uno strumento snello ma molto competitivo che tratteggia le seguenti linee. Innanzitutto c'è la formazione di un database per circa la dotazione di strutture, la dotazione dei operatori, dei servizi e delle associazioni. È prevista la nascita della consulta comunale sulla disabilità che sarà uno strumento all'interno del quale si andrà a discutere tutte le problematiche nelle enti tutte le disabilità quindi sensoriali, fisiche e mentali. È prevista l'utilizzo di una scheda per l'utente, una scheda detta budget di salute che è uno strumento anch'esso molto snello ma operativo. permette tramite l'UVM, quindi l'unità di valutazione multidimensionale, di creare il percorso per l'utente, di vedere cosa può mettere a disposizione il comune, cosa può mettere a disposizione l'ASL e cosa può mettere a disposizione lo stesso utente, quindi la famiglia. Ancora è prevista anche la nascita di un percorso per lo sviluppo del turismo sociale. Questa è una nuova frontiera che è a cavallo, si intreccia tra il sociale e il turismo che permette sia al disabile stesso di poter soffrire delle bellezze della nostra città ma anche della famiglia che vengono da fuori magari per due o tre giorni per curare il proprio familiare, rimangono qui in città e gli diamo un po' di respiro.